Buonasera a tutti, mi sentite? Siete un po' lontani, la prossima volta lo facciamo in una sala dove c'è più vicinanza, però questa è una sala che si presta bene anche perché avendo del materiale da proiettare è funzionale. Soprattutto abbiamo anche la possibilità di registrare l'incontro, cosa che faremo non tanto per lasciare testimonianza, ma soprattutto perché chi non potrà intervenire stasera potrà poi vedersi se ha voglia di ascoltare la presentazione, taglieremo ovviamente la parte delle domande, per cui verrà poi pubblicata sul sito in modo tale che chi non c'è stasera avrà la possibilità poi eventualmente di vedere la presentazione. Allora intanto buonasera a tutti, benvenuti a questa serata, sono per chi non mi conoscesse il sindaco della città di Cesano Gian Piero Bocca, con me al tavolo dei relatori ci sono il mio assessore ai lavori pubblici Manuel Tarraso, dopo il mio brevissimo intervento di presentazione lascerò la parola per entrare nel merito della presentazione del progetto. A fianco del mio assessore c'è il nostro dirigente dell'area tecnica, l'ingegner Fabio Fabri, il suo primo collaboratore funzionario ingegnere Alessandro Danna e poi abbiamo l'ingegner Luca Magnaghi che è il professionista incaricato dall'amministrazione per redigere appunto il progetto esecutivo che oggi appunto presentiamo. La presentazione di oggi è sostanzialmente legata alla presentazione di un progetto di cui come molti di voi sanno si parla da parecchio tempo, è stato un iter abbastanza complesso, articolato, che è iniziato dalla precedente amministrazione ed è stato completato l'iter dalla mia amministrazione appunto con l'ultimo atto, quello più importante prima di mandare in gara d'appalto il progetto che è l'approvazione del progetto esecutivo che è avvenuto il 22 di dicembre. L'iter è stato particolarmente anche complesso perché intanto è complesso l'intervento e quindi è ovviamente necessita del tempo necessario sia per la progettazione ma anche per l'elaborazione appunto di tutti quelli che sono i documenti progettuali di gara necessari poi per far scorrere e speriamo appunto la gara pubblica in maniera appunto puntuale e corretta individuare la migliore impresa per la realizzazione dei lavori, secondo le regole ovviamente dettate dal codice degli appalti. Però è stato anche un iter particolarmente articolato anche perché nel corso del 2022 sapete bene che è avvenuto anche un contesto economico particolarmente difficile per cui è stato necessario intervenire con ulteriori risorse e con lo stanziamento di ulteriori risorse perché il quadro economico ha seguito appunto degli aumenti dei prezzi delle imprese, delle lavorazioni che le imprese hanno ovviamente necessità di dover evidenziare, di aver evidenziato, è stato necessario fare un adeguamento ovviamente al piano economico che ha raggiunto i 2 milioni e 700 mila euro quindi è una cifra particolarmente articolata e impegnativa, ovviamente quando si parla di queste cifre sono all'ordo di tutte quelle che sono non solo l'IVA ma anche le prestazioni professionali questo è un momento importante in cui è un primo passaggio, io prima di dare la parola all'assessore voglio ribadire un concetto importante, intanto questo è un impegno importante di riqualificare con degli obiettivi abbastanza credo significativi che poi Manuel Tarraso vi dirà, quelli che sono gli obiettivi di questo lavoro e di questo progetto e soprattutto credo che l'altra cosa che ci tenevo a dire appunto è che con oggi parte anche un percorso di comunicazione che in modo particolare credo che sia un elemento fondamentale per poter gestire al meglio la comunicazione di questi tipi di impatti e di opere che impattano parecchio appunto soprattutto in fase di cantierizzazione sulla vita quotidiana e quindi anche sulle attività che sono presenti per fare questo abbiamo elaborato un piano di comunicazione, di questo ringrazio i miei collaboratori appunto in comune che prevederà appunto diverse iniziative appunto sulla scorta anche di alcune esperienze passate alcune iniziative di coinvolgimento della cittadinanza sono già venute, poi Manuel vi darà un po' il resoconto di come si è arrivati a questo progetto però proseguiranno appunto con una serie di incontri pubblici, questo è il primo che avviano di fatto anche una comunicazione vi anticipavo prima che la videoregistrazione di oggi sarà poi pubblicata per chi oggi non potrà quindi assistere alla presentazione nel nostro sito internet del comune di Cesano ci sarà una sezione dedicata con la possibilità appunto di poter scaricare documenti, piantine ben elaborati di progetto che possono magari essere utili anche così per un approfondimento un po' più particolare una implementazione anche comunicazione diretta anche delle attività sui social network, sapete che il comune ha una pagina facebook particolarmente appunto aggiornata e seguita, poi anche un articolo di stampa, qui oggi ci sono anche dei giornalisti che racconteranno un po' il racconto e che soprattutto riceveranno in maniera abbastanza periodica le nostre comunicazioni per fare una migliore divulgazione. Poi una messaggistica che avviene attraverso, sempre parlando di strumenti ovviamente digitali alcuni di voi che sono qua probabilmente hanno ricevuto sull'app Io che invito tutti i cittadini a scaricare e a caricare sui propri profili perché l'app Io è uno strumento di comunicazione molto particolare perché ci consente di arrivare direttamente, nel caso specifico abbiamo mandato la messaggistica a tutti i residenti del quartiere di San Bernardo Cassina Savina quindi significa che chi ha appunto questa app, che la ricordate ai tempi del Covid, riceve appunto una notifica con delle messaggistiche che per esempio stasera era legata all'invito a essere qua ma poi sarà costantemente appunto aggiornata e vi verranno inviate delle comunicazioni mano a mano che le attività amministrative di lavoro e di cantiere inizieranno e avranno loro inizio. Un'altra attività molto importante sarà appunto la possibilità di utilizzare migliori strumenti anche di come si chiamano comunicazioni offline, insomma manifesti, cartacei, volantini, striscioni anche banalmente abbiamo chiesto nel capitolato all'impresa abbiamo chiesto di realizzare una pannellistica che spieghi come funzionerà, come sarà il progetto in modo tale che sia visibile con la possibilità anche di avere un QR code da cui scaricare tutte le informazioni che sono appunto necessarie per essere appunto aggiornati. Questo è un po' diciamo quello che in estrema sintesi vi volevo in qualche modo anticipare e io se siete d'accordo, allora la serata funziona così io lascerò la parola a Manuel Tarraso per fare una presentazione, questa la pubblicheremo domani già sul sito per cui potrà essere anche questa visibile. Stavo dicendo, lascerò la parola appunto a Manuel Tarraso per la presentazione che è stata appunto in qualche modo articolata e realizzata con la collaborazione appunto dei tecnici che sono a questo tavolo e poi ci sarà dopo un penso un tre quarti d'ora non credo di più insomma, lasceremo la parola a voi per tutte le domande che riterrete di dover fare ci sarà appunto Vincenzo Massimiliano che con il microfono andranno nella sala appunto a fare le domande e a queste domande sono ovviamente disponibili i tecnici per poter rispondere e poi articolare appunto la serata nel miglior modo possibile. Io intanto vi ringrazio di essere qua e vi ringrazio dall'attenzione e lascio quindi la parola al mio assessore Manuel Tarraso. Grazie e buona continuazione. Grazie Sindaco, buonasera a tutti e grazie per essere qui questa sera. Come anticipava il Sindaco abbiamo predisposto delle slide a supporto dell'illustrazione abbiamo cercato di tradurre gli elaborati tecnici che qualcuno potrebbe aver già visto pubblicate sull'albo pretorio del Comune e le abbiamo cercate di semplicizzare il più possibile in modo da contestualizzarle, raccontare i vari interventi che saranno svolti. Parto raccontando appunto gli obiettivi del progetto quindi abbiamo fatto questo elenco puntato per indicare le linee guida che hanno diciamo guidato l'operato dei professionisti che sono qui questa sera come ben sapete la via Duligi Viganò ad oggi ha delle criticità importanti per quanto riguarda sia la viabilità veicolare ma anche e soprattutto per i pedoni residenti che ad oggi non hanno uno spazio protetto a loro dedicato quindi ci siamo concentrati sul migliorare appunto il tessuto urbano, creare dei marciapiedi e ampliare quelli esistenti abbiamo pensato di realizzare una nuova rotatoria che poi vi illustrerò dove verrà collocata saranno realizzate e sistemate le aree a verde e ci sarà chiaramente una razionalizzazione e regolamentazione della sosta che ad oggi è assente. Un altro obiettivo che si è dato a questo progetto è stato quello di razionalizzare anche gli interventi di natura diciamo di sostenibilità urbana quindi si è pensato un intervento che non va a sovraccaricare la rete fognaria vi sarete certamente accorti oggi quando percorrete via Duligi Viganò in giornate in cui ci sono state delle importanti precipitazioni che ci sono diverse pozzangher che rendono anche difficoltoso l'accesso a alcune case l'idea è quella di realizzare un sistema di drenaggio urbano sostenibile che scarichi il meno possibile le acque pluviali in Fogna ma che le dirotti nelle aree a verdi che saranno realizzate. Quindi questi sono gli obiettivi che guidano un po' questo progetto come diceva il sindaco le valutazioni progettuali che sono state fatte sono frutto di verifiche dal punto di vista tecnico quindi delle verifiche che sono state fatte da parte dei nostri uffici con lo studio di progettazione che è stato incaricato dagli incontri che ci sono stati con i cittadini residenti e i commercianti al fine di prevedere appunto una sistemazione più idonea possibile della via Duligi Viganò questo coerentemente con quello che è previsto nel piano generale del traffico urbano che è stato dotato dalla precedente amministrazione che prevede appunto anche un'introduzione di modifiche all'interno della viabilità che interseca via Duligi Viganò e che vedremo adesso un po' più nel dettaglio per quanto riguarda appunto il piano generale del traffico urbano in questa slide che appunto anche questo è uno stralcio del documento un po' più complesso che inquadra tutta la viabilità a livello cittadino abbiamo inserito questo stralcio che identifica la via Duligi Viganò che è l'arteria principale che vedete al centro della slide e le vie che la intersecano e che prevedono delle modifiche alla viabilità in particolar modo abbiamo indicato in grassetto le modifiche alla viabilità esistente quindi percorrendo il progetto da sinistra a destra via Diaz verrà introdotto un senso unico verso sud via Nino Bixio rimarrà a doppio senso di circolazione così come via Acquedotto via Calastri per la parte a nord della via Duligi Viganò sarà a doppio senso di circolazione e via Calastri a sud avrà un senso unico verso sud la via Pasini questa è una modifica che sarà introdotta per la parte a nord di via Duligi Viganò sarà a senso unico verso nord e via Pasini nella parte a sud di via Duligi Viganò sarà a doppio senso di circolazione via Muratori sarà a senso unico verso sud e sarà realizzata una nuova rotatoria e una nuova via con senso unico verso sud quindi in direzione via Duligi Viganò ci sarà poi la via Fratelli Cervi che è a senso unico verso nord tutto questo è fatto da un lato per regolamentare meglio i flussi veicolari e quindi incentivare il meno possibile l'attraversamento della via Duligi Viganò in maniera irregolare invadendo la corsia opposta e da un lato anche per razionalizzare degli spazi di sosta che ad oggi o vengono usati impropriamente oppure che verranno creati disciplinando appunto degli spazi di sosta regolare all'interno delle vie nel quale saranno introdotte delle modifiche alla viabilità le tappe del percorso abbiamo appunto voluto anche indicare i percorsi che hanno portato all'approvazione del progetto definitivo esecutivo è un progetto che ha avuto diverse fasi iniziate appunto dall'amministrazione precedente qui ho voluto indicare quelle un po' più significative nell'aprile 2021 quest'opera è stata inserita dall'amministrazione Longhi nel piano triennale delle opere pubbliche nell'annualità 2021 nel maggio 2021 è stato approvato con delibera di giunta il progetto di fattibilità tecnico-economica e sempre nel maggio 2021 in epoca ancora Covid in cui questi incontri purtroppo non era possibile realizzarli io e l'assessore Oltolini io in qualità di presidente della commissione territoriale l'assessore Oltolini l'assessore ai lavori pubblici abbiamo fatto l'incontro di presentazione online a cui avevano partecipato circa una settantina di persone in cui avevamo presentato quello che era il progetto di fattibilità tecnico-economica e la progettazione che era ancora in una fase preliminare che prevedeva diverse soluzioni alcuni di voi magari avranno partecipato e ricorderanno che erano state proposte alcune soluzioni alternative che avevano chiaramente ognuna punti di forza e di debolezza poi andando appunto a incontrare i cittadini, i commercianti raccogliendo quelle che erano le varie istanze verificando anche dal punto di vista tecnico quelle che erano le soluzioni più ottimali si è andati nella direzione di arrivare a questo progetto definitivo esecutivo prima dell'approvazione in giunta io ho incontrato, ho invitato i commercianti sia del lato nord che del lato sud in due giornate diverse mandando appunto un invito consegnato a brevi mano ad ognuno per incontrare appunto e confrontarci con loro su quella che era la soluzione individuata e raccogliere eventuali segnalazioni e migliorie che nei limiti dei margini di manovra che a un progetto esecutivo potevano essere adottati sono stati appunto raccolte da parte loro alcune segnalazioni legate principalmente al garantire che i parcheggi che ad oggi non sono regolamentati che prevedono lo stazionamento delle macchine praticamente in maniera continuativa quello che è stato chiesto da parte dell'attività commerciale in particolar modo andando chiaramente a razionalizzare gli spazi e diminuendo gli spazi impropri che oggi vengono utilizzati la richiesta che è emersa in maniera più significativa è stata quella di garantire una rotazione massima il più possibile quindi immaginarsi una sosta breve garantendo appunto anche un presidio che queste vengano poi effettivamente rispettate dalle auto che vengono parcheggiate lì quindi in questo progetto che poi è stato approvato nel dicembre 2022 in giunta dalla nostra amministrazione si è tenuto conto anche di prevedere adeguati spazi di sosta che hanno una rotazione frequente alcuni numeri di questo progetto come anticipava il sindaco è un'opera che da quadro economico arriva a 2.700.000 che ha una durata prevista per la realizzazione dell'intervento da progetto di 240 giorni quindi stiamo parlando di un'opera che sulla carta ha una tempistica di circa 8 mesi abbiamo raccolto qui alcuni dei numeri più significativi del progetto l'intervento complessivo riguarda 950 metri circa di strada saranno previsti spazi di sosta disciplinati nel numero di 114 4 stalli per disabili 3 stalli per il carico scarico ci saranno 1800 metri quadri circa di area verde 60 arbusti 9 porta rifiuti 10 sedute in calcestruzzo sarà installato un impianto semaforico e ci saranno 35 corpi illuminanti per la sede stradale 47 corpi illuminanti per il percorso pedonale ciclabile per quanto riguarda gli aspetti un po' più di dettaglio delle senza erbore piuttosto che il dettaglio degli arredi che saranno installati chiaramente si entrerà poi più nel dettaglio una volta che l'impresa sarà individuata da quadro economico sono previste delle essenze standard diciamo disciplinate dal prezzale di regione Lombardia chiaramente poi correntemente con le valutazioni che saranno fatte da parte del nostro ufficio ambiente sarà poi scelta l'essenza più coerente anche per la nostra città quindi questa valutazione verrà fatta in un momento successivo entrerai più nel dettaglio delle varie schede del progetto questo è lo sviluppo di tutto il progetto nella parte sopra la prima parte che inizia dalla rotonda di via Kennedy per intenderci e la parte sotto invece la parte terminale del progetto che arriva alla creazione della nuova rotatoria e all'insediamento commerciale del Max Factory per cercare di inquadrare anche visivamente le schede tecniche di progetto abbiamo appunto fatto questi screenshot da Google Maps in modo tale che si riesca più o meno di individuare anche l'elaborato grafico che verrà presentato poi successivamente qui siamo nel primo tratto come vi dicevo dalla rotonda di via Kennedy e arriviamo indicativamente fino a poco più avanti della via Diaz quindi questi sono i primi tre stralci del progetto che adesso vi vado ad illustrare qui iniziamo appunto dal primo tratto vicino alla rotonda di via Kennedy per quanto riguarda il lato nord sarà realizzato un nuovo percorso ciclopedonale un conglomerato cementizio drenante e saranno realizzate allargate le aiuole già esistenti per quanto riguarda il lato sud saranno allargate le aiuole esistenti qui vedete un'immagine semplificativa di come è il conglomerato drenante che citavo anche nella illustrazione iniziale a seguire lo stralcio 2 si prosegue sempre nella direzione verso Seregno sarà realizzato un nuovo percorso ciclopedonale nel lato nord percorso ciclopedonale che dobbiamo immaginarci un percorso che accoglie un'utenza comunque che non percorre il tratto a grande velocità non è una pista ciclabile è un percorso promiscuo pedoni e ciclisti perché come ricorderete quando è stata fatta la valutazione per chi ha partecipato su dove prevedere la pista ciclabile è stato individuato un percorso alternativo che va a inserirsi anche in un contesto sovraccomunale che poi al termine di questa presentazione molto brevemente vi accenerò per capire anche il contesto sovraccomunale in cui si inquadra questo intervento per quanto riguarda il lato sud in questo tratto sarà realizzato un percorso pedonale e saranno realizzati gli stalli di sosta l'isca di pesce paralleli al senso di marcia saranno realizzate le nuove a uguale e saranno messe delle transenne parapedonali che possono mettere in sicurezza i pedoni chiaramente queste valutazioni su tutti i tratti che sono stati individuati vanno a individuare una sorta di compromesso tra l'esigenza di garantire il più possibile la presenza di parcheggi e quella di garantire la richiesta sempre più prestante dei cittadini che legittimamente manifestavano l'inesistenza di percorsi per pedoni ciclisti protetti e che oggi rendono anche difficoltoso accedere alle proprie abitazioni e si vedono costretti a camminare all'interno della sede stradale quando le macchine occupano qualsiasi spazio proseguendo sul stralcio 3 qui arriviamo verso la fine della parte che abbiamo visto prima come stralcio di wall maps sul lato nord viene realizzato anche qui il percorso ciclopedonale delimitato dalle transenne parapedonali verrà installata una banchina per la fermata dell'autobus e nel lato sud sarà realizzato un percorso pedonale con stali di sosta paralleli a senso di marcia con l'installazione di nuove ruole a verde e sarà creata la banchina di fermata con nuove panchine per gli autobus a seguire lo stralcio successivo è quello che indicativamente parte dalle vie Bixi a Quedotto fino ad arrivare per intenderci a peccati di gola perché è chiaro anche le attività commerciali che sono insediate in quel contesto lo stralcio 4 prevede appunto sul lato nord anche qui la realizzazione del percorso ciclopedonale e sul lato sud la realizzazione del percorso pedonale costali di sosta paralleli a senso di marcia con ai ruole e alberature qui c'è da segnalare appunto che in questo incrocio viene realizzata come più avanti una piattaforma rialzata in corrispondenza alle intersezioni con via Bixi o via Quedotto con l'eliminazione dei semafori esistenti la realizzazione di 4 attraversamenti pedonali composta di parapetti pedonali quindi per mettere anche qui in sicurezza gli attraversamenti sarà realizzato su un asfalto colorato come vedete in questa slide in modo tale da rendere visibile questo attraversamento e chiaramente la sera sarà ben illuminato con delle illuminazioni dedicate proseguendo più avanti sul lato nord sarà realizzato un percorso ciclopedonale anche qui che come avete ormai capito è stato previsto su tutto il lato nord saranno realizzati gli stalli di sosta qui in maniera in linea rispetto al senso di marcia e ci sarà una delimitazione della pista con un doppio cordolo in parte sarà delimitata con le transenne parapedonali che vi dicevo prima sul lato sud invece i parcheggi ci saranno previsti le isca di pesce e poi saranno posti questi ferma ruota in gomma in modo tale da non invadere il percorso pedonale proseguendo sempre su questo stralcio sul lato nord verrà realizzata un'area verde con anche la posa di seduta in calcestruzzo come vedete in questa immagine qui esemplificativa indicata qui accanto e sul lato sud invece gli stalli di sosta saranno a l'isca di pesce anche qui posizionando i ferma ruota in gomma proseguendo sull'inquadramento successivo che parte indicativamente dalla via Calastri e Pasini arriva fino a via Pasini più o meno rispetto al progetto è prevista la prosecuzione del percorso ciclopedonale quindi limitato dal doppio cordolo e dalla protezione parapedonale e sul lato sud gli stalli di sosta all'isca di pesce anche qui abbiamo previsto un'area verde con delle sedute qui è l'altro rialzo stradale che vi indicavo prima quindi sarà realizzato questo rialzo in carreggiata qui sarà inserito l'impianto semaforico per garantire anche la svolta sinistra questo sarà oltre a Calle Rotonde uno dei punti in cui sarà possibile effettuare l'inversione di marcia quindi l'unico punto in cui sarà possibile svoltare a destra invadendo la corsia opposta chiaramente sull'intera arteria non è stato possibile prevedere diversi semafori perché questo vorrebbe dire rallentare notevolmente il traffico e difficilmente è possibile prevedere una sorta di onda verde perché qui per le distanze che ci sono con una ventina di macchine sapete bene che su quella via in diversi orari le macchine sono parecchie si creerebbero degli incolonamenti importanti mettendo diversi impianti semaforici quindi si è individuata questa soluzione nella parte più centrale che consente l'inversione di marcia e poi chiaramente l'installazione anche della nuova rotonda consente diversi punti in cui è possibile invertire la direzione l'ultimo stralcio sul lato nord la prosecuzione del percorso ciclopedonale sul lato sud sarà prevista appunto ancora la sosta risca di pesce della realizzazione dell'area verde nello stralcio 9 segnala appunto ancora la sosta risca di pesce e la prosecuzione di queste aree a verde a arredo chiaramente le aree a verde sono state previste in maniera tale da non impattare anche sulla visibilità qualora questo appunto preveda l'inserimento in carreggiata quindi saranno previste le essenze arboree anche in funzione delle esigenze di natura viabilistica l'altro stralcio che parte da via muratori è quello il tratto che arriva fino al comune di Seregno è il tratto che prevede l'inserimento di questa nuova rotatoria che prevederà attraversamenti pedonali regalzate e area verde a corredo si tratta di una rotatoria che ha un calibro importante e questo è il motivo per cui può essere inserita solo lì nell'ambito del contesto già urbanizzato che ha la via di Luigi Viganò la via di Luigi Viganò presenta un transito veicolare anche di mezzi pesanti di grossi calibri io non so se da dove siete seduti riuscite a vedere il calibro di questa rotatoria ma ha un raggio di 17 metri quindi una rotonda particolarmente grande quindi devono essere previsti raggi di curvatura necessari anche ai mezzi che passano su determinate arterie essendo quella arteria avicolare molto importante la rotonda che viene realizzata è di dimensioni significative proseguendo in direzione Seregno c'è la prosecuzione del percorso ciclopedonale e la realizzazione delle aree verde con le aiuole che vedete indicate nella parte superiore della slide e sul lato sud la prosecuzione del percorso pedonale la realizzazione di area verde e gli stali di sosta che in questo tratto sono in linea paralleli con il senso di marcia rispetto alla realizzazione del percorso ciclopedonale qui lo vedete proseguire sul lato nord sul lato sud sono previste delle aree verde e gli stali di sosta paralleli al senso di marcia questo è l'ultimo tratto come limite di intervento del progetto che arriva appunto quasi al confine con il comune di Seregno che prevede l'arrivo e la conclusione del percorso ciclopedonale fino all'ingresso del parcheggio del Max Factory per intenderci e sul lato sud la realizzazione degli stali di sosta paralleli al senso di marcia qui è l'inquadramento che prevede la creazione della nuova via in concomitanza con la rotonda quindi sarà realizzata una nuova strada a senso unico in corrispondenza della rotatoria che verrà creata e sarà realizzato uno stralcio di ciclovia con la formazione di alberature che fungeranno da sparti traffico qui vedete in questo in questo slide dove viene indicato lo stop quella sarà la nuova uscita del parcheggio del Max Factory perché se avete notato negli slide precedenti è prevista una sola uscita dal parcheggio cosa che invece adesso è prevista in due in due ingressi ne sarà chiuso uno e sarà appunto prevista l'uscita dal parcheggio su quella via che diventerà senso unico in direzione sud e che si metterà poi sulla rotonda e consentirà appunto di andare in direzione Cesano-Seregno in base alla direzione che si intenderà proseguire quindi questo è il progetto nei vari stralci del elaborato tecnico che è stato predisposto per quanto riguarda il cronoprogramma dei lavori come anticipavo all'inizio le lavorazioni da progetto prevedono una durata di 240 giorni per il completamento della riqualificazione di via Dulligi-Viganò questi sono i giorni che servono una volta che viene individuata l'impresa noi come ho indicato all'inizio abbiamo approvato il progetto esecutivo in giunta quindi indicativamente entro la fine di gennaio questo progetto andrà in gara presso la CUC la centrale unica di committenza della provincia che bandisce la gara e individua l'impresa che ha tutte le caratteristiche per poter svolgere questo lavoro l'inizio cantiere se l'iter di gara quindi non dovessero esserci ricorsi non dovessero esserci intoppi che come spesso abbiamo avuto modo di constatare purtroppo ci sono indicativamente il cronoprogramma se è tutto fino in maniera lineare il cantiere sarebbe previsto verso la fine di primavera inizio dell'estate di quest'anno nell'ambito della gara noi abbiamo in mente di inserire degli elementi premianti per l'impresa che sarà individuata quindi delle migliorie che chiediamo di proporre alle imprese che intendono partecipare sarà una gara che prevederà l'assegnazione per offerta economicamente più vantaggiosa con elementi premianti migliorie che vengono chieste che sono legate a alcuni aspetti che siamo ancora in fase di definizione ma che in parte abbiamo già individuato che sono legati alla creazione di percorsi per i povedenti percorsi tattili per migliorie legate appunto agli aspetti qualitativi in tema ambientale quindi l'arredo a verde e appunto altri aspetti di migliorie anche sugli arredi che sono stati citati prima quindi panchine e altri arredi che saranno inseriti stiamo immaginando adesso con l'ufficio alcune migliorie da sottoporre chiaramente queste migliorie che vengono indicate servono anche a individuare un'impresa che sia il più strutturato possibile escludere le imprese che sono un po' più passatemi il termine improvvisate l'importo dei lavori è elevato quindi ci immaginiamo che partecipino imprese che abbiano tutti i requisiti per fare un lavoro fatto bene come i cesanesi si aspettano come dicevo sono previste diverse fasi perché nell'ambito del progetto esecutivo le opere sono state suddivise in fasi e sottofasi ognuna delle quali ha una durata prevista qui la vedete indicata si va da 32 giorni per alcune fasi a una ventina di giorni per altre prevedono tutte lavorazioni più o meno simili l'elemento importante di queste fasi in questo slide si intuisce è quello di prevedere gli interventi in maniera tale da non chiudere mai completamente il traffico veicolare ma chiudere per porzione di strada in maniera funzionale ogni corsia verrà almeno una corsia verrà tenuta aperta sempre in modo tale da creare meno disagi possibili quindi le diverse colorazioni qui che vedete sono le fasi che abbiamo visto nella slide prima le scritte che probabilmente vedete in molto piccolo sono le sottofasi che questi interventi prevedono quindi ogni intervento sarà svolto in moduli funzionali come vi dicevo prima ci avviamo verso la conclusione questo progetto si inserisce nell'ambito di una visione un po' più ampia ci sono di fatti due progetti sovracomunali che si intersecano con questo progetto e sono progetti legati alla ciclabilità il progetto sovracomunale che vedete in questa slide è il progetto che si colloca all'interno del progetto la brianza cambia clima che è un progetto che l'amministrazione ha visto finanziato dalla fondazione Cariplo che prevede una compartecipazione al costo quella che vedete in questa in questa slide e che percorre in maniera parallela per alcune per gran parte del suo tragitto la via Dulugi-Viganò è l'itinerario ciclabile che ha una lunghezza di un chilometro e sei e parte da via Po e si inserisce poi passando per via Cantore nella via Kennedy e giunge passando per il parco pubblico di Paolo VI giunge su via Anna Frank percorre tutta via Anna Frank che è il percorso che vedete nella parte alta di questa slide fino a collegarsi con il comune di Seregno e quindi collegarsi alla ciclabile del comune di Seregno questo è un progetto che non è strettamente legato all'opera di via Dulugi-Viganò ma è un'opera che sarà realizzata appunto dall'amministrazione che è già in parte cofinanziata quindi è un progetto che si inserisce parallelamente a questo ma che come abbiamo avuto modo di vedere prima consente di individuare un percorso ciclabile dedicato che non interferisce particolarmente con la viabilità veicolare e quindi quello è un percorso ciclabile che può prevedere anche una velocità di percorrimento molto più veloce mentre il percorso ciclopedonale misto che vedevamo prima è un percorso funzionale a raggiungere le attività commerciali e le residenze con un mezzo diverso rispetto all'automobile quindi il percorso ciclabile ad alta velocità chiamiamolo così è quello che si collocherà poi su via Anna Frank l'altro progetto importante sovraccomunale è un progetto che è legato alla realizzazione della ciclovia Milano-Meda che è un progetto che è stato studiato dal consorzio del parco Grugno-Torto Villoresi e Brienza Centrale quindi il Grubria che prevede il collegamento di diversi comuni che si collocano in itinerario tra Milano e Meda appunto tra cui anche il comune di Cesano e che ha diversi chilometri di percorsi ciclopedonali questo è un progetto che non viene finanziato dal comune di Cesano Maderno ma che ha l'ambizione di raccogliere finanziamenti sovraccomunali da parte del parco Grubria e che prevede questo itinerario qui vedete inserita come prima la rotonda che verrà creata nuova che abbiamo inserito qui per contestualizzare anche l'intervento la parte di questa ciclovia Meda-Milano che va a intersecarsi poi con il il percorso di via Doligi-Viganò è quello che passando appunto dietro al a sud del cimitero di Cassina arriva a collegarsi con la rotonda che viene creata in questa fase e per l'appunto si ricollega al tratto di strada che noi realizziamo già ciclabile il tragitto invece che vedete indicato qui troverà poi finanziamento nell'ambito del progetto della ciclovia Meda-Milano mentre il tratto terminale della via che si inserisce sulla rotonda che si innesta su via Anna-Franc sarà realizzato nell'ambito del piano di lottizzazione che sarà realizzato in via Anna-Franc appunto quindi è un percorso che in parte viene realizzato anticipato in parte nel progetto di via Doligi-Viganò una parte che troverà copertura nella ciclovia Meda-Milano e una parte che sarà realizzata dal privato che attuerà poi quel piano qui ho voluto indicare le persone appunto che sono sedute a questo tavolo che hanno lavorato al progetto e che voglio appunto ringraziare per il lavoro fatto l'ingegner Magnaghi che è appunto lo studio che è stato incaricato per seguire il progetto definitivo esecutivo i nostri funzionari del comune l'ingegner Fabri l'ingegner Dan e la geometra Rossino che si sono spesi in maniera molto profusa per arrivare l'approvazione di questo progetto che come avete visto ha avuto una gestazione particolarmente lunga ma perché prevede degli interventi che a Cesano sono attesi da diverso tempo quindi io confido che questo intervento andrà a riqualificare un'arteria importante andrà a creare dei percorsi ciclopedonali protetti che incentiveranno anche una fruizione maggiore da parte dei pedoni che oggi francamente si sentono particolarmente insicuri a percorrere quella strada si tratta di un intervento che va a individuare un compromesso tra l'esigenza di mettere in sicurezza l'area e disciplinare degli spazi di sosta che oggi non sono a norma e non sono disciplinati quindi chiaramente partendo da una situazione che non è disciplinata in maniera corretta e avendo una sosta selvaggia che non prevede alcun tipo di regolamentazione andare a razionalizzare gli spazi vuol dire ottenere appunto un compromesso tra l'esigenza di chi si aspetta legittimamente di avere un percorso protetto e chi invece si aspetta di trovare il posto per la propria auto quindi è stato un percorso lungo che in diverse fasi ha previsto maggiori spazi a verde maggiori spazi a senso unico maggiore viabilità secondaria abbiamo avuto siamo arrivati a un progetto che che secondo me va a trovare il giusto equilibrio tra le varie esigenze io di questo ringrazio anche l'amministrazione Longhine l'assessore Ottolini l'assessore Nicolaci tutti quelli che hanno lavorato anche nell'ambito dell'amministrazione precedente per arrivare a un progetto esecutivo che potesse appunto andare a incontrare le esigenze di tutti come anticipava il sindaco abbiamo la disponibilità dei progettisti che hanno lavorato qualora ci fossero domande siamo ben lieti di dare le risposte qui trovate anche riferimenti sia mail che i numeri di telefono degli uffici che chiaramente sono come sempre a vostra disposizione c'è anche il mio riferimento mail quindi qualora ci fosse l'esigenza anche di vedere un po' più nel dettaglio il progetto o avere alcune spiegazioni più dettagliate al di là della serata di questa sera c'è la massima disponibilità a organizzare incontri presso il comune quindi lascio la parola al sindaco sì allora intanto mi aggiungo anche i ringraziamenti volevo solo vabbè dirvi questo che il comune non è un'entità stratta è fatta da persone da strumenti che sono a disposizione dei cittadini ovviamente siamo a servizio per cui qualsiasi tipo di necessità criticità o ulteriori approfondimenti riterreste ritenete insomma in qualche modo necessari siamo a disposizione per farlo i contatti li trovate nelle slide che da domani saranno pubblicate come dicevo per cui siamo pronti a qualsiasi tipo di confronto vi ringrazio moltissimo per avere dedicato una sera a questo momento di comunità perché credo che anche con questo si fa comunità quindi io vi ringrazio ribadisco noi siamo in comune tutti i giorni da lunedì al venerdì pure il sabato sottoscritto quindi qualsiasi cosa avete bisogno potete scrivere da domani pomeriggio Vincenzo me lo conferma sono online sul sito del comune ci sarà evidenzieremo anche un bottone sulla home page del sito del comune di Cesano la presentazione di oggi dove nell'ultima pagina troverete i contatti la mail il nome e cognome delle persone coinvolte che potrete contattare invito soprattutto i singoli casi che oggi hanno legittimamente esposto le loro ragioni di farsi avanti di appunto chiedere un appuntamento quanto prima per vedere la loro situazione nel dettaglio io come sempre sono disponibile alla fine di qualsiasi tipo di percorso per cui resto ovviamente a disposizione grazie a tutti grazie a tutti i consiglieri comunali agli assessori che sono qua presenti e che hanno voluto assistere a questo momento vi ringrazio molto anche quelli passati e vi ringrazio e vi auguro una buona notte a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti